Due sparatorie nel giro di mezz'ora, una purtroppo mortale per una donna che ha avuto la sola colpa di essersi trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Scene da far west nelle prime ore di questa mattina a Bitonto, teatro di ben due conflitti a fuoco avvenuti nella periferia nord della città e nel centro storico cittadino. Il primo intorno alle 7.30 quando alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l'abitazione di un esponente di spicco della criminalità locale in via Pertini. 30 minuti più tardi altri spari tra Porta Robustina e Via delle Marteri all'ingresso della città vecchia. Diversi i colpi esplosi probabilmente da una mitraglietta e un revolver, almeno 10 quelli rinvenuti in strada. Uno di questi ha raggiunto un'anziana che stava passando a piedi. La donna, Anna Rosa Tarantino, 84 anni, è morta in ambulanza poco prima di arrivare all'ospedale San Paolo di Bari. Ferito anche un giovane, colpito al torace da un proiettile e trasferito in codice rosso al policlinico. Si tratta del ventenne Giuseppe Casadibari, volto noto alle forze dell'ordine con precedenti per droga. Non escluso che fosse lui il vero bersaglio dei killer e che abbia usato l'anziana come scudo per proteggersi, i sicari lo avrebbero inseguito sino all'interno del centro storico, sparando all'impazzata. Una ventina di minuti dopo è stato poi inspiegabilmente ucciso a colpi di pistola anche un cane e un pastore tedesco nei pressi della stazione dei Carabinieri, ai quali sono affidate le indagini assieme agli agenti del commissariato locale. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia di Finanza. Non è ancora chiaro al momento se i colpi mortali siano stati sparati in un conflitto a fuoco tra clan rivali. È probabile, secondo gli inquirenti, che i due episodi siano collegati. Il comune di Bitonto ha intanto annullato tutti gli eventi in programma per le festività, in segno di vicinanza ai parenti della donna uccisa. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.